Poeta, scrittore, traduttore, il mio primo ricordo di Ungaretti è una sua apparizione televisiva fulminante nel 1968 in un programma della RAI, l'Odissea. Ungaretti leggeva dei brani introduttivi dell'opera con una potenza, con un vigore, con una forza che lasciavano stupiti. Ungaretti è soprattutto famoso per le sue poesie in cui descrive drammaticamente la situazione dei soldati durante la prima guerra mondiale. Si sta come d'autunno sugli alberi le foglie e la sua poesia è intitolata Soldati che rappresenta al meglio la difficoltà di vivere e la difficoltà di sopravvivere a quell'immane canificina che fu la prima guerra mondiale. Grazie a tutti.